Signori, con noi ai migliori anni, l'uomo dei bottoni color madreperla, Piero Cicala! Tu amami di più, perché l'amore è un frutto, che non sazia mai, e a mordere più dolce, tu amami di più, e ti farò lo stesso. Vedete, ha a disposizione un Falcon 2009, autorizzato il Rolls Royce. Ah, non andiamo in aereo?